Desidero rivolgere un caro saluto a tutte le colleghe amministratrici d'Italia e un augurio, l'augurio di non essere più combattenti solitarie, ma di riuscire a fare rete per uscire un po' dallo steccato delle quote rosa. A Savona, questo 8 marzo, lo festeggeremo insieme ai nostri giovani, insieme alle ragazze e ai ragazzi, affinché possano comprendere che solo attraverso l'impegno, l'impegno è rispetto, rispetto reciproco, rispetto per gli altri, senza distinzione di genere, si potrà veramente arrivare a una società dove ci sarà un bilanciamento all'insegna dell'ugoglianza e questo veramente è importante ed è un messaggio che vogliamo veicolare ai nostri ragazzi. Buon 8 marzo a tutti!